Silvio Berlusconi ha festeggiato il compleanno della figlia Marina, 44 anni, nella residenza salda di Villa Certosa. Poiché la primogenita amatissima del Cavaliere, nei giorni scorsi aveva manifestato tutta la sua irritazione per le dichiarazioni rilasciate da Barbara, che è la prima figlia nata dal matrimonio fra Silvio Berlusconi e Verona Calario, la stessa Marina non avrebbe desiderato partecipare ai festeggiamenti qualora nella residenza salda del padre ci fosse stata anche la stessa Barbara. A convincere la primogenita di Berlusconi, a cambiare idea, è stato proprio il padre, che, per inciso, le ha anche regalato un bracciale di diamanti che secondo indiscrezioni varrebbe una fortuna, circa 600 mila euro. Ma Berlusconi ha riservato un'altra sorpresa ai 40 ospiti presenti ai festeggiamenti per il compleanno di Marina. Uno scontrino fiscale da 500 euro l'uno per ogni gelato che è stato offerto agli astanti. Dopo le grandi risate del Cavaliere, si è scoperto che si trattava di uno scherzo. Grazie a tutti.